E' stato arrestato stamani un uomo dalla polizia di Pratola Pellinia dopo un inseguimento a folle velocità di un'auto rubata. L'autovettura rivenuta è un Alfa Romeo Giulietta asportata a Pescara. Alle 5.30 la pattuglia della polizia ha intercettato l'auto e ha ingaggiato un inseguimento per 30 km a folle velocità toccando i 170 km orari, col malvivente che ha più volte cercato di speronare l'auto della polizia al fine di non farsi superare. L'inseguimento ha avuto termine al casello A25 di Celano dove il ladro vistosi braccato per poter lasciare l'autostrada ha divelto la strada del casello e con manovra repentina ha effettuato l'inversione a U con l'intento di rientrare nella A25 e guadagnare terreno rispetto agli inseguitori. Tale manovra ha permesso agli operatori di polizia di chiudere la via di fuga al sospetto, tant'è che accortosi di essere bloccato ha abbandonato il veicolo rubato per darsi alla fuga a piedi senza risultato perché raggiunto e catturato dagli agenti. L'uomo, a F e le sue iniziali di anni 23, residente in Ancri, risulta già condannato per reati della stessa indole con a carico varie segnalazioni. Il movimento è stato pertanto sottoposto alla misura di prevenzione personale dal questore di Salerno. Vista la reiterazione dei reati e la pericolosità sociale, il soggetto è stato poco dopo arrestato per furto aggravato e su disposizione del dottor Guido Cocco, sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, è stato associato presso la casa circondariale dello stesso capoluogo. Su di lui pende anche una denuncia per esistenza pubblico ufficiale per il possesso di attrezzature idonee e seguire furti di veicoli. Gli è stata inoltre anche ritirata la patente per la successiva sospensione, prevista da due a otto mesi, per aver guidato in qualità di neopatentato un veicolo con potenza superiore a quella consentita dal codice della strada.